Bella raga ciao, io sono Andrix, lui è DJ Red Ciao a tutti Bentornati in questo nuovo video challenge Allora, cosa vogliamo fare oggi? La challenge si chiama Rischia il gusto Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo delle caramelle, classiche caramelle Come potete vedere, caramelle normalissime Ma non lo sono, giusto? Non lo sono, no, perché tecnicamente su questo pacchetto di caramelle Sono colori diversi, però sono a coppia i colori Nel senso che ci sono due caramelle con lo stesso colore Solo che una ha un gusto buono e l'altra ha un gusto di merda Come ad esempio queste qua Ce n'è una con l'arancione che può essere o sigaro, puzzolente oppure mandarino cinese Con la bianca può essere cacchetta di piccione o gelata all'ananas E poi c'è l'altra marrone che può essere catarro sfutacchioso oppure pesca sciroppata Che non è male L'unica cosa che non sappiamo come mai abbiamo una caramella in meno Il colore rosso che qua non è segnato ma dentro la busta non c'era Quindi giochiamo con quelle che ci hanno dato in dotazione Tanto qua non c'è chi deve girare prima quindi dobbiamo girare e vedere cosa ci capita Sì e andiamo a punti comunque Facciamo vedere Sì mettilo vicino per terra E qua ci vorrà litri di acqua io lo so già Sì che schifo Allora Vabbè fallo bene in giro dai Cos'è? È uscito marrone No marrone E marrone sarebbe Marrone sono queste qua Sì ma potrebbe essere Marrone potrebbe essere catarro sfutacchioso oppure pesca sciroppata Sì Andiamoci piano Pia Addio anche perché mi hai venuto in mente questo gioco Io ti odio per questo Infatti non mi voglio fare Oh non mi vuoi mettere sul tavolo io te lo dico eh Dio Ah Ambra Ah marrone devi prenderla Vabbè predo questa eh Vado qui Chi cari o Luciano chi sei basta Eh vado io Eh no tanto dobbiamo andare tutti e giù Va a punti questa Bisogna dimenticare che va a punti Nel senso che Chi ha la caramella buona guadagna un punto E chi ha la caramella di in mezzo sta pieno dal culo Ecco Quindi ciao Vado eh Buon appetito Buon appetito È buone Che cazzo è Pesca sciroppata È buona C'è andato dal culo Quindi se abbiamo un punto a testa per dire Pesca Minchia va Sono stagionate Sono pastose Vedo io Vai vai Minchia riesci manca a mangiare Sembra lo spinner Allora il verde Il verde che non abbiamo Ah non abbiamo neanche il verde Che figa Tecnicamente forse Come fanno queste buste No forse dobbiamo prendere altre buste con quelle che hanno dentro i colori diversi Ma mi fanno Allora ripenta la fortuna Giallo Non l'abbiamo Ci abbiamo o grigio o marrone o arancione E' vero Quindi non è solo il rosso che manca Ne mancano un fottio Me lo hanno prendato e butte Ma che scaccio qua Si Arancione ce l'abbiamo Ne abbiamo solo due Una a testa Quindi da due adesso non abbiamo mangiato solo due che si fanno tagliare Allora L'arancione potrebbe essere Il sigaro pussolente E sto detto lo pigli tu O il mandarino cinese Mi lo pure smesso di più Il chiuà Vabbè prendo prima io Figa Allora vabbè Ho due sole Arancione Arancione Come le qualcosa Vado andiamo Cin cin Cinese cin cin Buona Ma me lo posso usare Pezza Sì sì E' buonissimo Infatti era mandarino Sì sì E fanno due punti Dove uno per me Dico che può il mandarino cinese Cioè dicono che era Sono nomi inventati Ma che cazzo sono inventati Sono veri Sapeva proprio sai del tabacco Questa cosa è di mandarino Sai quando lo buscì che ha quello odore Tocca a te Tocca a te Che buone Non sei uno a zero No siamo due a uno Ah sì Perché prima All'inizio Cos'è? Marrone Di numero Quindi di marrone Allora potrebbe essere Abbiamo detto Il catarro O la pesca di sciroppata Ma figa è questo Non è male che non rimane il gusto Perché appena mordo Chi sente che fa schifo Lo busco Se fa schifo Io imbestegno Io imbestegno Vado Andiamo Che buono Battimento Ma che schifo è Mai più eh Ma che cazzo è che si inventa queste puttanate Maria Santissima Mi ha fatto prendere anche un corno Quindi E siamo Fortunatamente ho la mia sigaretta al mojito Mamma Niente siamo sempre due a uno Due a uno Ah Ti tocca a me Sì Rossa Non c'è Rossa Rossa A parte ci rimane solo il marrone o il grigio Eh Sul marrone Sul marrone Sul marrone di nuovo Sul marrone di nuovo Sul marrone di nuovo Porco giù Da Non cazzo Ma io prendo le ultime due di marrone Oh mamma mia Cos'era il gusto buono del marrone? Eh La pesca La pesca ce l'ho fatta Andiamo Buona 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 Qualc'è Ma che è? Bene Mi sta venendo mal di stomaco Grazie a Dio che mi ha dato la caramella buona così mi ha sciolto Ma ho fatto il gusto di merda Mamma mia Guarda che butta Lo schifo della terra proprio Allora adesso abbiamo solo quelle bianche Quelle bianche a sto punto senza rotella Sì ma ce ne sono due, quattro o sei quindi per tre volte Eh E quanto siamo adesso di punteggio? 3 a 1 Eh Quindi stai vincendo tu Bella Eh Mamma mia Stasera sto già che vomito Proviamo Dai Cos'era il gusto di questa stasera? Guarda un po' quella Eh beh lo leggi anche qua Cacchetta di piccione Oh mamma Oppure gelato all'ananas Io l'ho già messo eh Sto fortunato con gli uccelli Sembra ananas Ananas L'uomo del monte sa quando è il momento giusto L'uomo del monte ha detto sì Sì anche se è proprio sinceramente l'ananas non è che mi piace molto eh raga Preferivi la cacca di piccione? E basta mangiare la merda dei tuoi uccelli ma che schifo sei oh mamma mia Senti un po' la finiamo qua apri Ma che è che schifo No non sei boffa una roba del genere dai ma che cazzo di challenge è? Boh dai raga Guardate mi sta avvenendo lo sbocco qui totale Lascia perdere Andate a fare in culo poi le vostre challenge qua E che hai inventato il gioco Cosa c'è andrano poveracci No mi stanno sul cazzo tutti adesso Comunque raga è ovvio che ha vinto lui perché Che cos'è 3 a 1 Anche 3 a 2 Vabbè Allora ragazzi Merda tra i denti di piccione Che schifo Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto Commentate qua sotto se vi è piaciuto il video Iscrivetevi ai nostri social dei Techrokes su Facebook e Instagram Condividete ovunque E una cosa volevo dire anche a loro Sentite il rumore Praticamente nullo Perché l'ho oliato per bene Se avete qualche idea Di qualche video da proporci Commentate qua sotto Che noi realizziamo le vostre idee Minchiauu Miserica Eh ho voluto mangiare la cacca di piccioni Dai noi ci vediamo al prossimo video E ciao